Presidente D'Auria, altri due punti, quinta vittoria consecutiva, ancora una volta arrivata per la sua gran difesa. Assolutamente, abbiamo fatto la nostra partita, quando decidiamo di difendere, dopo diventiamo molto fastidiosi e abbiamo portato a casa due punti importanti, complimenti al centro che comunque ci ha tenuto testa fino al terzo quarto, mi mancava un americano come ci è mancato a noi in altre partite, quindi capiamo che giocare sempre con un americano solo in questa lega è difficile, quindi faccio i miei complimenti al centro. Tra l'altro gli americani, Pagli ha ritratto questa sera una buona partita, adesso ovviamente aumenterà il minutaggio per crescere ancora più. Assolutamente, da Pagli ci aspettavamo quello che ha fatto stasera, lo conosciamo bene, A.J. per noi è molto importante e anche la gestione di Spiro che ha fatto per i minuti di A.J. è stata perfetta secondo me, perché ci avevamo detto di fare i miei minuti e sono stati rispettati. Poi un gioco si è fatto duro, è uscito Kenny Esbrook, però anche i giovani hanno dato un contributo molto importante. Sai, adesso la parola giovane è vero, sono giovane, tutti i giocini, i filoni sono veri giovani, tutti questi ragazzi stanno iniziando a dimostrare, secondo me, che sono davvero dei profili interessantissimi, fanno sempre la differenza sia in difesa che in acqua.